Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche! Modellisti galattici, Doc Nico vi fa tanti auguri di Buon Natale e di uno spettacolare anno nuovo! Da me il topo c'è là! Questo video per augurarvi un felice Natale a tutti quanti da noi della Guida Galattica per Modellisti! Ciao a tutti, galattici amici, galattiche amiche, questo video per augurarvi buone feste, buon Natale, buon anno, buono tutto! Buone feste, buon Natale da tutti noi della Guida Galattica per Modellisti! Anche dalla Francia Meridionale tanti tanti auguri di Buon Natale e di felice anno nuovo! Che sia pieno di miniature, pupazze e tutte quelle belle cosine che piacciono tanto a noi! Mi raccomando, progetti hobbistici a go-go, sfruttate le feste per darci dentro! Ovviamente il 2019 sarà un anno fenomenale, ma solo se seguirete la Guida ovviamente, se non seguirete la Guida... Che sia un 2019 carico di hobby, di progetti hobbistici, di tanti tanti mesi di video della Guida! E di pochi soldi a questo punto! E anche di pochi soldi, no, di tanti soldi a questo punto! E tanti soldi! Di tanti soldi a questo punto! Mangiate le lenticchie! E fateci sapere cosa combinerete, mandateci qualcosa, un link, un piccione viaggiatore, uno snurz, quello che vi viene in mente! Mi raccomando, durante le feste non mangiate troppo, non abbuffatevi, diluite sempre i colori... Signori, noi ci mangiamo il panettone! E ovviamente, seguite sempre la box art! Io non dico niente, però fate voi, fate voi! Mi raccomando anche, preparatevi all'anno nuovo, stilate la lista delle cose da fare e cercate come noi di sopravvivere al Big Bang dell'ultimo dell'anno! Ciao! Buone feste ancora a tutti! Ciao ciao! Ciao! Ciao ciao! Ciao a tutti ragazzi e auguri ancora! Ciao ciao! Anche del pitador mascherato, una felice novità, nuovo agno, del naso, caso! .